Il mondo del caffè sta cambiando nelle abitudini e nelle modalità di consumo, anche nella patria dell'espresso dove lo consuma la quasi totalità degli italiani e il 64% lo considera un vero e proprio rito. In questo panorama di grande cambiamento, dove si fanno strada agli estimatori del lungo, l'espresso in occasione dell'International Coffee Day lancia Vertuo, un nuovo sistema per il caffè a casa, che con macchine e capsule completamente nuove consente di preparare dall'espresso ai formati più lunghi, in modo del tutto automatico. Stefano Goglio, direttore generale di Nespresso Italiana. Nespresso vent'anni fa ha rivoluzionato l'esperienza del caffè a casa e oggi sta accadendo di nuovo. Oggi lanciamo Vertuo, Vertuo è il risultato di una ricerca in termini di innovazione e di qualità, che ha come obiettivo quello di soddisfare tutti gli amanti del caffè, che possono andare da chi ama un caffè corto, espresso e che ha un approccio molto funzionale, a chi in realtà ha un approccio esplorativo e più meditativo, quindi con dei caffè magari più lunghi. Già presente in altri paesi, Vertuo promette di rivoluzionare il modo di fare, ma soprattutto di consumare, questa bevanda a casa, grazie ad alcune caratteristiche innovative. Vertuo si basa su tre elementi chiave, la tecnologia Centrifusion, che permette tramite una rotazione, un'estrazione di caffè particolarmente intensa con una crema estremamente ricca, la crema appunto, che è ricca, morbida e quasi golosa e il terzo elemento chiave per noi è la versatilità. Riusciamo a produrre con tre lunghezze di caffè differenti, cinque formati che vanno dall'espresso fino alla tazza che noi chiamiamo mag o alto. Accanto alla tecnologia Centrifusion, brevettata, che con un massimo di 7.000 rotazioni al minuto, estrae il caffè grazie all'azione combinata di forza centrifuga e infusione, c'è un sistema, completamente automatizzato, di lettura del codice a barre impresso sulla capsula. In questo modo basta solo introdurre la capsula e la macchina fa tutto da sé. Grazie a queste innovazioni, secondo un espresso, anche a casa si può preparare un caffè nero e corposo con una crema ricca, che non è solo piacere per il palato, ma consente anche di custodire, senza fargli disperdere, gli aromi della miscela scelta. L'offerta di tre diverse dimensioni delle capsule e di 29 miscele permette poi di rispondere alle numerose esigenze dei coffee lover, spaziando tra cinque diversi formati, dall'espresso fino all'alto da 414 ml e una varietà di gusti, perché il mondo degli avanti del caffè è piuttosto segmentato e una ricerca di squadrati ne ha dato la conferma. Abbiamo scoperto che ci sono quattro tipologie di coffee lover, una più purista, che sono gli espressiani, nero, bollente, ed è solo quel momento dedicato all'espresso, non voglio sapere nient'altro. Ci sono quelli funzionali, per cui l'approccio al caffè deve essere qualcosa più di ricerca di energia, di ricarica. Poi ci sono gli esploratori, che sono in netta crescita e sono quelli un pochino più aperti. E da ultimi ci sono i sociali, per cui ci sono le persone che considerano il caffè importante, ma con una valenza sociale come occasione di fare chiacchiere. Il quadrato semiotico elaborato da squadrati individua dunque quattro differenti profili di coffee lover, che corrispondono a diverse esperienze di consumo, dall'espresso gustato a colazione, alla mag che accompagna i brunch nel weekend, fino al caffè on the go da sosteggiare lungo la strada per andare al lavoro.